Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPILI code per un veicolo fermo al chilometro 23.600 tra Empoli-Est e Empoli in direzione mare. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Per la cantieristica notturna in A11 stanotte un orario 22.06, chiuso lo svincolo di Montecatini Terme in entrata verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!